dobbiamo fare presto a fare queste riprese perché indovinate che succede qui a Bergen sta per mettersi a piovere sta per mettersi a piovere il cielo vediamo se riusciamo a riprenderlo senza far impallare la macchina è a pecorelle là c'è un sole al tramonto che rende quasi magica questa atmosfera siamo arrivati appunto al quartiere antico di Bergen qui si mangia praticamente ad ogni ora sono le 21.40 la gente sta mangiando sotto questa meravigliosa palazzina in una delle poche mattone e qua ci sono i negozi che vendono tanti bei souvenir non ci sono i negozi non ci sono i negozi non ci sono i negozi